Il treno regionale, bene ore 8.11, per Milano Cagorna, è in arrivo al binario 2. Il treno regionale, bene ore 8.11, per Milano Cagorna, è in arrivo al binario 2. Il treno regionale, bene ore 8.11, per Milano Cagorna, è in arrivo al binario 3.11, per Milano Cagorna. Grazie. Grazie. Grazie.